puntate del nano al lavoro ecco questa è solo una espressione normale che ha con tutta la gente il nostro orgoglio del 62 per la terza gamba che ha è all'opera su un pezzo di spiro guardate lo spiro montato in precedenza quello che ce l'ho impiegato a mezz'ora per farlo davvero il cuginetto, osservate la delicatezza con cui usa gli apprezzi ha le mani un po' zozze altrimenti vi faccio vedere il dito martellato in precedenza guarda che bello che è sempre di a pulire più che piemontese sembrano svizzero questa è l'eccellenza artigiana all'opera adesso non so bene qual è la parte da mettere su, ci vuole un secondino e dal cilindro tira fuori un altro pezzo guardate la forza brutta che ha guardate bene è impossibile staglierlo con la telecamera perché è talmente veloce da montare che non si capisce più un cazzo l'assistente di prima è ritornato e il nano è sparito no no eccolo qua che spiro guardate che bestia da lavoro l'assistente ha tentato di faccata fare un altro dito al nostro nano il nostro nano non usa il martello perché ha due mani come in Cudini guardate come avvita sta cercando come un chirurgo l'attrezzo giusto l'ha trovato guardate bene, chiave da 10 guardate è rotto guardate la velocità quello che ci si vede è uno spettacolo della natura mia tanta però è sempre uno spettacolo osservate guardate che forza brutta ancora un po' piega il tavolo l'ultima volta si è rotto il dito facendo quello però guardate che bella faccia prego ma non c'è il cazzo da fare mio porco no vado a casa adesso voglio vedere la faccia erotica sentite le sue espressioni molto colorite rivolta al sottoscritto guardate la forza guardate la forza guardate la forza guardate la forza 160 kg eh continuo un altro rigido buttando il suo piede di merda osserviamo il pacco di dietro se si è riempito di merda si anche questa è fatta è un bel ragazzo si guardate che precisione questo è un altro esemplare da parcoscenico non preoccupate che li trovi su internet non ne fa no 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 io metto tutto il video con lei questa è la testa dell'assistente vedete l' orecchio? un po' sporco guardate 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 ok so un po' sporco eccellenza tessile, la fabbrica più bella del mondo guardate, guardate che precisione, lo salviamo meglio, tu da vicino lo svizzero non sa più cosa fare è lì che osserva gli altri guardate che sta scappando dove va queste sono le sue chiappe